Ciao ragazzi, siamo ufficialmente live! Allora, siamo qui con due ospiti speciali, ovvero Axel e Tearless, che oggi ci accompagneranno in questa carticata importante, e ci hanno chiesto... Non c'è Lars? Ah no, Lars è entrato ed è scippato. No, no, è entrato ed è andato a riavviare il modem, perché c'ho la connessione che gli va di merda. Comprensibile. E Axelone, il grande Axelone, ci ha fatto una domanda assolutamente condivisibile, ovvero perché avete fatto ritardo? E qui lascio la palla a Bertra, che gentilmente dovrà spiegare la situazione imbarazzante che ha creato. Allora, praticamente, partiamo dal presupposto che Pokémon, e tutto ciò che compete Pokémon, è in una bellissima cartella che ho sul desktop, o avevo sul desktop. Tutto questo è cambiato quando giovedì ho cambiato il PC, e ho dato il PC vecchio in permuta al suo nuovo proprietario. Oh no! Ho fatto, prima di cambiare tutto, ovviamente un passaggio di file sul mio SSD da smistamento, ma a quanto pare una cartella in particolare è sparita, e questo io l'ho scoperto stasera alle 19.50. E il PC quando è che l'hai dato via? L'ho vedi. Però ho già chiesto, non è stato ancora formattato. Ok, quindi forse riesci a recuperare qualcosa. No, no, la cosa che serve si riavrà. Per fortuna. Quindi, la cosa è che noi ci siamo impegnati, perché... Ho un nuovo gatto e non fa altro che giocare e mordere. Pardon. Era sempre... Grazie, allora. Praticamente, che è successo? Abbiamo deciso di portare avanti la serie di Pokémon, ora che l'è uscito dal gruppo Gang, bella per mio fratello. Abbiamo deciso di portare avanti... Gruppo Gang Gang? Sì. Abbiamo deciso di portare avanti la serie di Pokémon, facendo diventare la terza prospettiva gestita tutta esclusivamente dalla chat. È una figata quella. È fighissimo. L'ho visto, l'ho visto, è bello. Esatto. E quindi dare la possibilità tramite i sondaggi alla chat di scegliere le cose da fare e poi essere soullinkati con noi, quindi un bordello allucinante. E... Buonasera. E che succede? Che abbiamo avuto un botto di problemi ad organizzarla, perché insomma c'era una persona che era nel nostro Discord mutata per muovere il gioco, che poi faceva i sondaggi, eccetera. E quindi la prima volta è andato un po' tutto in cacciara. E quindi questa volta io faccio... Vabbè, è il primo test. Esatto, esatto. Questa volta io faccio Bertra, oh, mettitici, cioè, stacci dietro, questa è la tua cosa, nel senso, facciamola bene questa serie, secondo me spacca un botto di potenziale. Ok, e quindi arriviamo, tutto pre-life, faccio, vabbè Bertra, ma quindi, cioè, hai visto con Grana che l'altro ragazzo gestia questa cosa? Avete visto? Funziona bene tutto? Sì, sì, funziona bene tutto. Ok, dai. Manco il tempo di avvicinarmi all'avvio della diretta, che Bertra se ne esce che lui non ha i file per partire questa cosa, io ti giuro, guarda. Traumatica, traumatica questa cosa, assolutamente traumatica. Tadà! Va bene, mi muto al volo per ringraziare le sub, quindi Bertra, intrattieni e non eliminare altri file per strada. Allora, voglio ringraziare Kivitre per la sub, nove mesi, è nato il bambino, è nato il bambino, sono nove mesi, sì, grazie mille, bacini. Andrea 66, grazie mille per la sub, un mese, per un totale di sette mesi, amo noi. Qua i capelli, vabbè raga, mi sono, mi si dovevano scivare i capelli. Poi, Mattè0097X, buonasera, buonasera, siamo atto per 25 mesi, mortacci vostri, tra l'altro dobbiamo aggiornare gli stemmini, perché hanno superato il massimo dove eravamo arrivati, vabbè, ecco. SicilianTV, grazie mille. Nitski, ho un nuovo gatto, non fa altro giocare Mordles and Help, giusto, questo l'avevamo sentito prima, però non ti ho risposto, scusami, grazie mille per la sub 5 mesi, grazie alessi per i 6 mesi, grazie a loro regali, 01B, 5 mesi per il Prime, vi ricordo, punto escanativo Prime, c'è la sub gratis, che è sempre importante, XPiero16, 6 mesi, grazie mille, Candied, Candied, grazie per la sub con Prime. Gatto calzini, 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 contro il C contro il VD delle emoji del gatto e delle emoji dei calzini e quindi c'è il TTS che sta dicendo gatto calzini gatto calzini gatto calzini gatto calzini gatto calzini è bellissimo raga non so però sono entrata nel mondo sinceramente sta vai bando pesantemente gatto calzini ballo gatto calzini c'è sento un bischio nella mia testa gatto calzini siamo noi e come si chiama Lars appena resuscita dal suo internet che non va oggi i problemi è tutto per internet ma io ho bisogno di vedere questo gatto calzini entra in live si è traumatica c'è ancora gatto calzini gatto calzini aspetta ti condivido lo schermo di si ho bisogno della emoticina guarda ah ok è quello ah proprio emoji gatto emoji calzini pensavo fosse una emoji singola chiamata gatto calzini No, però sarebbe stato giusto Oh, è finita No, 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 non siete tristi Di una parte qualcun altro con un'altra Grazie mille, comunque lei lo Grazie a Tilo, grazie a Leandro Comunque Detto ciò, ragazzi Tearless, Axel, come state? Che c'hai Axel? Niente di cui parlare in live Oh, no Allora è qualcosa di serio Bella rega, me stavo dimenticando di fare la sub Rido Mi rendo un inquieto Non essere inquieto È Bertra quella persona No, è Bertra, mamma, mi fai un cazzo di un duro Eh? Allora, devo ammettere che è stata unexpected Come reazione Devo ammettere che è stata assolutamente unexpected È proprio la convinzione con cui l'ha detto È ucciso dal cuore Ma perché quando certe cose le pensi veramente Nel senso non è che puoi fare altrimenti Comunque Tu, tu Bertra, come rispondi a questo avanzo? Eh, pvt per foto piedi No, non li voglio Bertra, ma sei arrivato ufficialmente al punto in cui ti leghi i capelli Cioè, abbiamo i capelli legati nello stesso modo ora Sì, sì Coda bassa Coda bassa Ma no, non coda bassa Io c'ho il cipollotto Aspetta, allora risolvo subito Aspetta che li taglio Aspetta, ora si fa pelato Procedo a farsi pelato Sai cosa ti dovresti fare? I due cazzetti che cadono davanti Meglio? Sei più felice? Amo noi Noi amo Un momento cipollotto Ah Tu, Tearless, sei felice della tua vita? Ma Diciamo che avrei voluto finire la serie Pokémon oggi Ma non ce l'ho fatta È colpa nostra No, no Allora No Nel senso, è colpa mia che ho perso Contro il campione della Lega letteralmente dieci minuti fa Per cui mi dico che sei stato in ritardo, no? Perché stavo finendo E invece, niente È stato Vuoi... Tiaro, c'ho 50 anni e giochi a Pokémon, ma ti svegli? Non ne ho 50, ne ho... 46 Vabbè, ma vuoi che finché non arriva dell'Arz Reactiamo a te che riprovi a uccidere questo? No, no, perché devo rifare tutta la Lega Pokémon, mo Ma stai giocare? Quella è il tuo cosa con le Chonk? Sì, è la mia cosa con le Chonk Cos'è le Chonk? Come cos'è le Chonk? È un Pokémon È il Pokémon più bello che esista Per Pokémon sui Allora, io so che sono entrato una volta nella tua live E c'erano tutti i Pokémon remixati Eh? Ah, sì, sì, sì Quello lì era Infinite Fusion Sì, ed era un mega... Sì, un mega... Era tipo, ma che cazzo? Quello è bello, quello è bello Sì, ha fatto ridere, devo ammetterlo Ha fatto ridere Ma anche pensare Comunque sapete cosa dovremmo fare? Sì Riportare in auge Fortnite No, la Pixelmon No, ti prego Piuttosto che esplodo Ti prego? Perché? Perché la Pixelmon C'è la nuova mod Dai lì la Cobblmon Comunque sì Cos'è la Cobblmon? È una nuova Pixelmon Fatta meglio però Vabbè, però insomma Lo stesso Cioè Sì, 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 sì Capito Facciamo la... L'UHC Farò Non chiedermelo anche tu Che alla fine Che io ogni live Mi arriva qualcuno Veramente? Arma Pandora Sì, sì Vabbè, Pandora lo comprendo L'UHC Ma la Tabicraft? Minchia Rifacciamo la Tabicraft, raga Ma apriamo noi, però Apriamo un S&P Di Pokémon Minecraft E la chiamiamo La Tabicraft 3 Così la gente Mi va a chiedere Ma la 2 Che fine ha fatto? Un segreto Ma Pandora Ora sarebbe la 3 O la 4? 4 Sarebbe la 4 La 4, ok Io l'altra volta Cosa continuavo a scrivere Su Gartic Che sfattonavo Nova che non fa Che non prepara La Pandora No, ma io chiedevo Tipo della Pandora 5 Della Pandora 3 Per sbaglio Vabbè, in ogni caso Io comunque ci credo Nel ritorno della Pixelmon Cioè, nel senso Secondo me Tornerà Dai, sta andando troppo bene Minecraft Sta andando troppo bene Pokémon Io credo nel fatto Che Tier farà Le OHC Sì, ho visto che il 7 luglio Esce l'album Taylor Swift Speak Now Del giorno del mio complano Sono molto felice Scusate Lo so che siete tutti fan Di Taylor Swift qua Io Taylor Swift amo Marò Io L'ascolto sempre Ma tu lo sai Cioè, devo fare due tatuaggi Taylor Swift Aspetta, sei serio? No, vabbè Sì, veramente Mi fratello Dimmi, assolutamente Stai scherzando Devo fare Due frasi Una di Seth 3D Beautiful Disaster No, vabbè Oddio Ma sei anche underground Conosci le canzoni Devo scrivere Words How little they mean When you are a little too late No, vabbè L'altro invece È di Midnight's 3M edition Di Would've Could've Should've No, vabbè Memories feels like weapon Ehi Non te l'aspettavi? Assolutamente no Ma scherzi E quindi Tier Com'è il tempo da te? No, niente Stiamo parlando di frasi Di canzoni tatuare Se io mi tatuerò No cock like horse cock Che canzone è? No cock like horse cock È una canzone Ah, è il titolo della canzone? Sì, 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 sì Di chi è? È davvero Pepper Coyote No No cock like horse cock Sì No Conferma, è una canzone ragazzi Certo che è una canzone E questo artista ha 160k Ascolti mensili Credo che arrivino tutti Da quella canzone lì Però Cos'è stato il Allora Non ricordo se A inizio 2022 O a inizio 2023 Comunque col recap Di Spotify Mi è apparsa quella Come una delle canzoni Più ascoltate Dell'anno Ma è una bella canzone? No Adesso Adesso la ascolterò Per la gloria Ah ma è un Pischello Così da solo Che droppa Le migliori canzoni Del mondo Praticamente Le sue canzoni Sono Allora Quella più ascoltata È No cock like horse cock 5 milioni di ascolti Ovviamente Poi al secondo posto Abbiamo When I die Con 3 milioni e mezzo Ah è un furri Ah Vabbè Sì È un furri È un furri Cosa pensate Dei furri? Niente No però No 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 cock like horse cock Prende un bruttissimo Altro significato Ora che so Che è un furri Non sono più felice Perché? Boh Non lo so Magari ha testato Chiara Che hai mangiato Per cenare? Io ho un terribile risotto Che ho dovuto improvvisare In un quarto d'ora Perché non avevo tempo Prima di attaccarlo a live Un risotto in un quarto d'ora Cos'è? L'hai cotto e basta Cioè Quindi non è un risotto È riso Esatto Esatto È riso Non mentire Cioè In realtà Non neanche Cioè Per farlo risotto Avete dovuto Vabbè Stai lì Col brodo E tutto quanto Non ho usato il brodo Ho usato l'acqua Hai fatto un riso bollito E poi ci hai messo delle cose No No Perché poi tutto il resto Era tipo il risotto Però Cioè Vabbè Scialla Sincero Sai cosa potevi fare Comunque Dropparci sotto sotto Il dado Cazzo In effetti Non ci ho pensato A metterlo Vabbè Ci lanciavi dentro Un dado E Chi si è visto Si è visto E se facevi Venti naturale Veniva buono Wow Vado Vado a piangere Se facevi Ah Venti Madonna Berto Cioè Davvero Sì Come Come combaci Questi sospetti Della tua vita Quale E l'essere un giga chad palestrato Al fare battute di questo tipo La mia dissonanza cognitiva è così grande Che la notte piango Dissonanza cognitiva Bertra Dimmi Cos'hai mangiato per cena Ha mangiato palesemente Nel lunetotto Io ho mangiato invece Io anche Beh Mi sono sorpreso Scusate Ho mangiato I resti del polpettone E i ravioli Io invece Mi sono mangiata Un buonissimo passato di verdure Con i formaggini Mi ho sciolti Oh no Ci sta Cioè Fa strano a metà maggio Però ci sta No no Perché in realtà Qual è il fatto Che mi sono dovuta fare Tutta quella spesa Di quando ti togli I denti del giudizio Che sono tutte cose liquide Eccetera I formaggini Che sono freddi Tutte queste cose qui E quindi ora Non mi fa più male Il dente del giudizio Però Cioè Non posso rimanere Queste cose nel frigo Perché vanno a male Quindi Devo iniziare a finirle tutte E tipo Sto continuando a mangiare Minestrine Pastine Con il formaggino Pastine con l'omogenizzato Scusate Invece che prendere tutte pastine Cos'è varie Fai come ha fatto mia zia Quando l'hanno operata Al palato Che non poteva mangiare Il cibo solido per un tot Si era rotta ai coglioni E a un certo punto Si è fatta frullare Una fetta di pizza No però Io ho detto Che domani La prima Cioè domani A mezzogiorno e venti Mi tolgono i punti E appena torno a casa La prima cosa che farò Sarà acquisire Una Una pizza margherita Ci sta Giusto giusto Si Sarà molto felice Comunque ragazzi Mi sono arrivate notizie Da The Lars Che non promettono Particolarmente bene Ovvero Leggo testuali parole Sto provando a riconnettermi C'è internet Che non va In questi giorni Si è vero Anche settimana scorsa Stavamo registrando un video Non gli andava Dovremmo pensare di Proseguire Cioè All'ipotesi In cui questa storia Deba andare avanti Anche senza The Lars Oh no Vabbè si può fare È una tangibile ipotesi Eventualmente Quale contenuto Vorreste creare Dipende da voi Siete voi I'm su Fortnite Minchia Volete giocare a Fortnite No 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 Assolutamente Ti prego No no Volevo andare a mettere Io ci sto Aspetta che lo aggiorno Perché dico puttalato Io non ce l'ho installato Minchia Epic Games Non ce l'ho installato Non ce l'ho installato Nooo Fate i cazzi vostri Tra i poco Lo scarichi dai Che palle Non ce l'ho installato Neanch'io Mi sa Ah e che cazzo Cioè sono l'unico Che ha Sono tristissima In questo momento Della mia vita Ragazzi Molto male Minchia Devo pure fare accesso Epic Games Oh ma che cazzo è Tu ce l'hai scaricato? No No Ce l'ha nessuno E vabbè Eh vabbè E vabbè dai Eh dai ragazzi Allora Oh no vi giuro Su Dio Mi è arrivata una mail Di Fishing Planet In questo momento No Giochiamo a Game Beast O Golf It With Friends Devo scaricare Axel Io veramente Ti prendo il pisello Tra le mani Se vuoi ti dico Giochi con installato Ma non ti conviene Eh? Se vuoi ti dico Giochi con installato Ma non ti conviene Uno c'è sex E l'altro è un dittatore Ah ho presente Ma che cazzo i giochi C'ha installato Bellissimo È un bellissimo Mi sembrava maleducato Non provarlo I miei giochi installati Sono I Heart Impostor Aim Lab I miei giochi installati I miei giochi installati Adesso sono molto peggio Aspetta Allora I Heart Impostor Aim Lab Among Us Crab Champions Ma no Crab Champions Che giocone È bellissimo L'altro giorno Ci abbiamo fatto Due ore di live Su Crab Champions Che giocone Poi c'ho Devour Fishing Planet The Forest Che direi che lo posso Disinstallare Che cazzo c'ho The Forest installato Porca troia Io non voglio dirvi Ma gli unici giochi Che ho installato Da quando ho preso Il PC nuovo Sono Aim Lab Counter Strike E Wallpaper Engine Fine Minchia Giocone Soprattutto Wallpaper Engine Wallpaper Engine Minchia 1 Oh Cristo Oh no 1 Per me è un incubo Perché Cosa serve Uno pesa pochissimo Uconnect Il problema non è 1 Sì Perché Penso sia tipo Meglio un carcio Nelle palle Sì Uconnect È abbastanza Una nottura di balle Ah lo installo il volo Ce la faccio Io sono ok Per me potevamo fare Comunque Cioè Gartic Fono Scribble Cioè per me è indifferente Vedete voi Se non avete giochi installati Né niente Allora Mettiamolo al voto Del pubblico Al voto del pubblico Sì Gartic Barra Scribble O Uno Eh raga Io scaricare Due giga di uno Ci metto 20 minuti Ma te lo sei pazzi Ah perché tu vivi Nel burro Ah è vero Va bene E allora Niente Mi dispiace ragazzi La democrazia Un'altra volta Ci ha deluso È il momento di giocare A Gartic O Scribble A sto punto Teniamoci Gartic Facciamo qualcosa di divertente Tipo la roba Di Pokémon Non posso mettere a scaricare Facciamo una manche Ce l'ho eh Una manche Scusami Perché l'hai disse Cioè ma per cosa T'ha fatto Mi ha fatto ridere Sentire dire una manche Mi ha fatto ridere Non è un termine Che sento normalmente Mi ha fatto ridere Io sono dalla tua parte Io sono dalla tua parte Axel Questo è stato veramente Un attacco personale Mi ha fatto ridere Senti Io con Axel L'altro giorno ci ha chiarito Per l'infamata Che io ho fatto Allora Io non t'ho perdonato Punto uno Beh l'importante È che abbiamo chiarito Ok Poi Non hanno chiarito Io ho chiarito Poi magari Axel No Però questa è un'altra questione Questa è un'altra questione Insomma Gartic Phone Mi abbia installato 12 virus In questo momento Perché? Perché l'ho installato E mi ha chiesto E gli dai l'accesso Quello d'amministratore Sì Me l'ha chiesto Altre sette volte Di fila Ehm Vabbè Canale amichetti Scomparso Oh no Farisco proprio io Not again Plots Allora ragazzi Procederò a invitarvi Eh aspetta Su cosa? Su Gurtic Vi ho mandato il link Per Gurtic Ring 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 Banana phone Ring 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 Banana phone Anironic Leo Che ho pitturato caso Tutto il giorno Con questa canzone Oh buonasera Buonasera Perù Oh mio Cristo Grazie mille Che cazzo Grazie Macbottogifti Da tier 1 Subtualimo Trattino basso Zero tre C'è stato uno Che ha donato Ah ok No hanno donato 20 sub E Ha scritto ora Il primo messaggio Nella chat Macbottogifti Subtualimo Quasi trattino Basso E bonjour Bonjour Vabbè Ah ma è tutto Perché Axel ha detto Manche Allora ha detto È francese Questa live Ah ok Axel scusa Guarda Oh Axel Ti è stata anche Kiftata una sub Lo sai Sai che non Non ci vuole più bene Axel 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 No raga Ma mi sa che è crashato Ah Macbottogifti Da tier 1 Subtualimo Mi sa che è crashato Perché non è entrato Neanche su Gartic Oppure è veramente Tantissimo arrabbiato Minchia Andiamo bene oggi Adesso gli schermo In privato Vabbè raga Placid Duck Simulator Ma è bellissimo Un altro giocone inutile Strattino basso Strattino basso Ah ma non Raga mi seguo da un bot Ah bella Macbott Mi seguo da Ah no Axel Non sei entrato Axel Ma non mi odi Mi odi Si è rizzitto Ho mutato la traccia Due per sbaglio Scusate Ah ok Allora non mi odi Per fortuna Ui ui Ma non Raga mi seguo da un bot Ah ok Ma non Raga mi seguo da un bot Grazie per la sub regalo Eh ma tu mi sentivi Quando ti parlavo No Sono felice Di ciò È sempre un piacere Non è per prendersi in giro No no ci credo purtroppo Mi va bene Grazie Beh non sono felice Meglio crederci Piuttosto che mi sai Io ti odi Ragazzi se volete fare sesso Fatelo in privato Dai Grazie Macbott Per le sub Non dire questa Prodove Allora E vabbè Vogliamo 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 Darci dei bacini Si Ok Si Stavo a casa di amici Hanno cominciato a prendere Un gioco di carte Tutto a tema sesso Ok E tu ti sei segato Fortissimo No 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 Mi sono sentito Da me l'olta di saggio Sono corso via Sono scappato tipo in salone Mi sono seduto a terra Ho letto una carta Tipo Le cale La parte intima Del tuo ragazzo Facendo i 360 No scoop Dagli Roma Cioè Roba tremenda Ho letto ragazzi Ti giuro Ma poi l'hai fatto o no? Macbott Gifti Da Tia Uno Sub Tu dottor Sei una fottuta pussi Di merda Io Sì La nostra relazione È totta che l'uomo Non io Io? Sì Vero confermo Ehm Stiamo pensando amici Autorelazione Ma vogliamo Provare Le altre categorie Che non ho mai provato Va bene Cioè Ok io farei Farei Cioè Story Coop Missing Peace Che sono nuove E quando manca il piscio Bert Ti giuro Grazie Bert Allora Allora Praticamente Si inizia con un disegno Incompleto Ad ogni turno Una parte viene aggiunta E un'altra viene Desaparecida Ok così alla fine Creano Ok 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 Vi va a registrare Gli audio? Se vi va Se ve la sentite Se vi sentite un po' pazzi E Bert Ti registra Tutti il resto Sì è già tutto pronto Di amarmi Bert Ok Ovvio partito Quel treno è partito Quel treno è partito Non c'è più Va bene Allora faccio partire Missing Peace È vero far ridere È vero far ridere Ho cambiato completamente idea Sei pentita Due secondi Bastardi Vabbè Porca puttana Hai fatto partire di botto Perché ve l'ho detto Notta Madonna io ti toccolo Aspetta ma quindi che disegno? Parto così? Cioè il nulla? Disegno quello che voglio io? Mi sa di sì E io vi tolgo Questa parte Questa è una parte Con la pubblicità Questa è di Lars Che è entrato No E Dani Vabbè Ma qua fa così Vabbè Facciamo uscire Sì sì Però usciamo Perché noi ti vogliamo Tantissimo bene Come si esce? Chiudi la finestra Apri la porta Ok Io ragazzi Spero di riuscire A anticipare Perché internet Va malissimo Ok va bene Ti mando il linketto Fratemi Ti mandi il link Già che sento che le vostre risposte arrivano in ritardo Quindi anche le mie arriveranno in ritardo E quindi Aspetta Dimmi ciao Ciao Vabbè Dai poteva andare molto peggio Neanche così tanto Neanche così tanto Ok vi ho invitati ragazzi Dovreste esserci Non è arrivato un cazzo Muto il bot ragazzi Ho fatto un rutto al polpettone Ho mutato il bot Terribile Gesù Tu sei il mio Eh Vabbè Ehm D'Arza Stiamo provando Una nuova Ehm Come si dice Una nuova Impostazione di gioco Sì Una nuova modalità Che fatica Che fatica Una nuova impostazione di gioco Raga Ma poi Impostazione di gioco Una nuova Che ti stai a guardare Impostazione di gioco Raga scusate Che sto studiando per gli esami Quindi ormai sono Stai dando troppi esami Cazzo Impostate il mio cervello Su persona Competente in qualcosa Quindi Persona 5 Sì Il mio gioco preferito Allora Questa nuova modalità di gioco Si chiama Pezzo mancante Pezzo mancante Cazzo mancante Missing piece E Si inizia Svesti la dividere Per il mio gioco La dividere per missing piece Non ho capito Dai Missing piece Come piscio No Cazzo No Questa non fa ridere Manco a me Vabbè Allora Missing piece Ognuno Si inizia con un disegno Incompleto Ad ogni turno Una parte viene eliminata E una parte viene Aggiunta E gli altri devono ricompilare Questa è una pausa enorme Vabbè È la mia pausa Di ragionamento Per capire cosa voglio fare Della mia esistenza Ma manca di tipo Ah siete pronti Raga ma siete pronti A giocare Non è che ci avete le mani Ma ho aggiornato il driver Bam Esploso Ma qui dobbiamo rifare la stanza Allora vi rimando il link amici Vi rimando il link Sappiatelo Io dopo la terza volta Che riappogliarti Ti fa inizio E disegnare E disegnare Amongas col cazzo Ve lo dico Puoi avviare la registrazione Del tuo audio Per favore Tra l'altro Mi sa che l'altra volta Mi sa che il mio Audacity Era impostato a registrare Il microfono Di qualche altra parte Del corpo Non è un problema Del corpo A proposito Tiar ma tu sai Su Audacity Come si imposta Il dispositivo Di input Sì Dani In alto C'è l'opzione C'è tipo Il microfonino E poi Un menu a tendina Dove ti dice Che cosa sta registrando Clicca lì E ti dice Il nome del microfono Aspetta Ho problemi A trovare Il coso Del microfono Ah dispositivo Di registrazione Esattamente Ecco perché L'altra volta Ti ho mandato l'audio E ho registrato Dal microfono Della webcam Adesso sì Perfetto Registrazione Per gli amichetti Ciao Ciao Ragazzi allora Restarto anch'io O ottengo quello Che è Ma va bene Ma non è un problema Non è un problema Non è un problema Iscrivetevi Agli amichetti Questo lo potete Riutilizzare Grazie Ci mettiamo Un piccolo jingle Sì come entro Ogni volta Una domanda Siete pronti No Non proprio Lunedì Mi dispiace di tallare Un attimo Avete già fatto ritardo E mi sono dovuto Organizzare all'ultimo Cosa Sono arrivato in ritardo Eppure Vi ho trovati qui Ancora Ti stiamo attendendo Sì Ritrovo Alle 9 Sono le 9.45 Stiamo iniziando Facciamo un spacco Di silenzio E giudichiamo Axel Scusate Scusate Che puttana Il mio signore No No Ma di tutte le cose Che potevi dire Ti vuol dire Il mio padrone di casa Ma che cazzo C'è Ma perché Cosa stai aggiornando Axel Siamo nel feudale Cioè scusa Cosa stai aggiornando Axel Mi è partito Un aggiornamento driver Che non si può interrompere Ma intendi taxi driver Vabbè Mi è stato aperta Perché non lo voglio Sentire oggi Mi è fatto bene Sinceramente Io lo comprando Ok ci sono Scusate questa attesa Ok ok Ora siete tutti pronti Per iniziare Missing Peace Sì No No Troppo tardi Mi dispiace Mi interessa ormai Ok quindi A questo punto Ognuno di noi Disegna Ciò che preferisce Ma ci vogliamo Tenere un meme Cioè tipo un meme Un tema Hai proposte Ma no Non penso che serva No no Chiedevo a voi Se magari volete un tema Specifico Io non Non ho nessun tema In particolare Sono felice Di vivere Questa esperienza La tua vita Un quarto di migliore La volta Esatto Esatto Sono felice Di essere qui Con voi Questo mi basta E avanza Allora Oh no Come dico sempre io Hashtag Fast life Frate Hashtag Porca di quella troia No Bro Ma cazzo Cosa posso disegnare Non è in linea Con i miei contenuti Questo linguaggio Non è in linea Con i tos di twitch Perché è troppo Troppo scarso Madonna totta Troppo scarso Ci sono andato Giù abbastanza pesante No frate Non è manco Siummato Dopo che hai detto Quella bruciata Odio quando non siumma La prossima volta lo farò Odio quando la gente non siumma Quando poi non c'è il sium Cazzo no 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 Ok Bisogna siumma Questa è Ah non ve lo posso dire Perché poi voi la dovreste Ok Ok Cioè c'è un qualche tipo di strategia Tipo devo fare delle cose Che non sono minimamente connesse Così se mi eliminano qualcosa Poi voi non saprete cosa fare Ma no Non lo so Io Gatto se mi tocchi ancora Io ti tocco il pisello Oh tocca anche a me Eh Ma io posso toccare il tuo Ehi Ehi che brutto Ha disegnato una cosa bruttissima Ovviamente è anche cresciata da Asidi Eh vabbè mamma mia Oggi è incredibile Allora Ragazzi volete tutti un bacione in bocca Sì oggi comunque sapete Che dobbiamo fare un bel gest chatting Anzi dobbiamo sfruttare la funzione Di Amazon Di Prime E spizzarci un film E basta Ma roba C'è anche una nuova funzione oggi Che si fa Adesso Ehm Lo posso dire Ok ma che cazzo mori già a fare Che non me la ricordo Scusa Più o meno Cioè così Vabbè Ti vuoi parlare Ma non so che serve Ammazza Per fortuna Quindi la stiamo usando È Discord di Prime No no Cioè sì Ammazza L'evoluzione ragazzi Le AI dove ci porterò Chi è che mi ha mandato Questo incubo di merda Ma perché io ho un disegno vuoto? No Chi è che non ha disegnato? No? Chi è che non ha disegnato? Chi è che non ha disegnato? Ma chi è come ha fatto Tutta l'illustrazione Completa Il disegno Dei bambini Qua Ma chi Cosa vuol dire? Ma ragazzi che cazzo A me non è arrivato nulla Di disegnato E disegna qualcosa a caso sopra Ok No ma io non so che colore è questo No e tu vai al sentimento Nel senso Anzi no sai come faccio Senti sì Ma è vero che tu non distingui il colore Scusa ogni volta Mi lo dimentico che sei Diversamente colorato Ok io ho fatto Bertra Eh? Va bene Bertra Felici delle mie Disfunzioni Mi dispiace Non volevo Anzi no Facciamo una piccola modifica Guarda qua Sento molto in colpa Il gabibbo ha le orecchie Cazzo non me lo sono mai chiesto Come sente il gabibbo? Perché poi deve sentire perché Ha delle orecchie Ti fai i cazzi tuoi Ma che c'è la testa liscia così? Ah sì io sì Senza orecchie? Ma no Bellandi Che mi ha fatto queste braccina da spaventapasse di comunque E poi comunque tecnicamente sotto al gabibbo ci potrebbero mettere pure tipo il cugino di Antonio Ricci di 11 anni e nessuno se ne accorgerebbe mai Io penso che è divertente picchiarlo in quel caso Perché potrei essere io sotto al gabibbo e voi non lo sapete Ma il gabibbo esiste ancora? Sì sì Balla sempre con le veline Però gli aveva stirato quello che stava dentro il gabibbo O era una fake news? No no L'originale gli è stirato effettivamente Perché io ho questo Ricordo distintissimo del gabibbo che muore e tipo un mese dopo i mates lanciano jade nel panda Cazzo si è solo reincarnato allora non è morto La reincarnazione esiste Ed è il gabibbo Ed è la quinta stella dei mates No è la quinta stella dei mates Ora ve lo posso dire comunque nel costume di Jaden c'ero io Nooo Non è vero Non è vero Sì 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 Mi ricordo le risate con papà Vegas quando doveva entrare dentro Qua a me è apparso una mogu senza una gamba Un braccio mozzato e un pipo È vero Posso solo dire con assoluta certezza che è vero Questa è l'unica cosa che posso dire nella mia vita Allora Io ve l'ho detto Questo cos'è? Questo secondo me sì Condivisibile Condivisibile Ragazzi le mie doti di disegno stasera stanno veramente facendo scintille Stanno scintillando Stanno assolutamente scintillando come i denti di Chip Skylark Le doti mie scintillano Come le stelle in cielo Nerdo Bisogna dire Nerdo perché Dani sentiamo Perché noi conosciamo i testi dei Chip Skylark I fantagenitori testo canzoni Nerd Testo canzoni Stupido Letteralmente la ricerca Che hai fatto Ok sono fiera del mio sinceramente Sono fiera del mio like Like Assolutamente Like dislike No Like dislike Era solo un'esclusione Quale è il rosa raga? Il rosa è Allora Quanto acceso lo vuoi? Quello tenue da pelle è l'ultimo Ok grazie amo Prego Ti devi Wow vabbè Come sempre Totta Non riesce ad aiutarmi Stavo cercando di aiutarmi Allora Vabbè Lei pensa ad aiutare se stessa prima Saprei darti solo risposte Che c'entrano con Gli esami che sto studiando Perché nel mio cervello c'è solo quello ormai Vai rendimi partecipi Allora Non sempre dare la risposta in fretta significa dare la risposta giusta Spesso si tratta solo di semplificare concetti che sono troppo complicati da essere risolti in poco tempo Che cazzo sei? Un post di tubo? No è il mio esame di comunicazione politica Che colore siete negli amichetti? Io sono viola Bertra è arancione E poi il quarto colore è verde Così Tutte le altre persone sono verdi Che collaborano Perché in realtà è Tyr l'ultimo E quindi quando collabora Tyrlos è bellissimo Io che sono una merda Tyr Perché mi è arrivato esclusivamente un enorme pele Io non mi dico che questa cosa vi giuro È arrivato solo un cazzo A me è arrivato un disinto carino Cioè nel senso carino Per la media della nostra cosa è carino Io non ho parole Che cazzo è? Che cosa sto guardando? Vabbè facciamo Facciamo che andate in questi Non ho peggiorato Scusa Scusa Vabbè Vorrei che ci fosse copia e incolla su questa cosa Sei troppo felice se ci fosse il copia e incolla raga vi giuro Io vorrei che ci fossi tu in casa mia Questa volta che glielo ho detto mi ha chiamato ai guardi C È vero A me anche una volta hanno chiamato ai guardi No No A me una volta a stasettimana Solo Daniel mi deludi Cioè stai Eh ma perché sono stato in vacanza Fra stato a casa pioveva Vabbè Raga non ho l'ispirazione Cioè non so che fare Uh grazie Non c'è cosa più odiosa di quando vai al lavoro Che piove Poi il ritorno E magari poi ti si bagna tutto il passamontagna Sì no poi ti entra l'acqua nella glock Lascia perdere L'acqua no no bruttissimo bruttissimo Odio andare a lavorare così Sì no 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 Ho riso Non male che il mio secondo lavoro comunque mi dà delle soddisfazioni Il content creator È vero Beh è onesto comunque alla fine Il primo lavoro che cos'è nello specifico Primo lavoro ma niente Faccio parte di una Potremmo definirla una famiglia Insomma un Gruppo di persone Gruppo di persone che si vestono tutte un po' tipo uguali Ci sono comunque delle leggi all'interno Dei codici morali forti E tipo avete un nome in particolare Sì no Ce ne sono diverse tipologie Ecco varie Io sto in una di quelle Beh ci sai Come si chiama la tua Come si chiama Noi si chiama Sassuolo Ah ma il famoso Sassuolo Calcio Quelli sono i nostri cugini Sì sì Sassuolo Calcio Ah ok Sassuolo Calcio Sì ti arrivo e dormo con Maxime Lopez Beh ci sta Ho visto il video di Ale della Giusta Sul Sassuolo Calcio Sì no Pericolosi Sì sì assolutamente Il quartiere più pericoloso del Sassuolo Calcio L'altro giorno ci hanno fatto cazzare Siamo andati tutti Ma che cazzo Ma questo è Warren Buffett assolutamente Cioè il Pokémon Warren Buffett No io comunque sono È Bob Buffett Ah esatto Io ho deciso che ogni cosa che disegnerò oggi Saranno cazzi Non c'è niente da fare Ti giuro Cosa sto guardando Allora chi è che ha fatto un qualcosa che Vomita Blu Con un aura gialla Di troll vomito blu Forse ero io ma non doveva essere blu Ops Allora io mi sa che So di cosa stai parlando Però c'è un pene volante Bianco Non si capisce niente Allora no non so di cosa stai parlando Vorrei portarti a aiutare Il truest Axel momento è quando Gli dici che una roba è di un colore Lui dice Ops non doveva essere di quel colore Vuol dire che mi avete baitato Quando avevo chiesto prima i colori Vedi Te l'ho detto che Una risposta veloce Non sempre è quello giusto Allora oggi mi fa queste massime di filosofia E mi viene voglia di Fare Bungie jumping dal marciapiede Ma non è che succede Cioè puoi farlo se vuoi Sono molto piccolo Ma sei mia mia Che risposta del cazzo Sono molto piccolo È stata bellissima E poi se lo fai di testa Comunque fa male Ve lo posso garantire Beh però farebbe anche molto ridere Perché vedere una persona in salto da morciapiede Con tutto l'intento di cadere di testa Cioè è una scena particolarmente Va bene Adesso salgo Salgo al nord e facciamo questo video Axel fa Bungie jumping dal marciapiede Salgo al nord Mi fate schifo voi nordici Madonna Lo dice uno di Roma Tu non sei più di Roma Ma che boh Nella mia agenda L'unica cosa di Roma La cadenza In effetti Axel Tu di dove sei Axel? Di Roma Beh comunque se devo dire Neanche tu avresti tanto diritto di parlare Perché comunque qua Allora TR vabbè non ne parliamo Vabbè anche io sono del sud Dell'Austria TR viene proprio da Tristopoli Tristopoli Come si chiama lì La vostra provincia autonoma Sì Praticamente una gran rottura di palle Si rispettano solo le regole Che noia C'è anche Che noia La youtuber La nota youtuber Che noia Conosco Conosco C'è Bertra Vabbè sarà tipo della Lombardia Figuriamoci Assoluto god tier Qui dentro Sì Sì certo Frate Convinto Poi vabbè Axel e Totta Sì dai sono di Roma Ci stava comunque Troppo su Nell'Italia E tu invece cos'è che c'hai I portici? No Se io ci vivo E basta Ah scusa Ricordami Dove sei Io sono Della Della Abruzzo Molise Cioè Porca troia Ma è da peggio di te Davvero pochi eh Sì no Capito Rispetto Allora Voi Fatevi salire Per questa cosa Io devo aprire la porta Il mio coinquilino Che è rimasto chiuso fuori a casa Torno subito Io comunque non ho ben capito Come funzioni Neanche io Zero Ma magari adesso Lo capiremo Forse Non ho niente Ma da TR Dimmi Pensa quanto sarebbe stato divertente Se anche noi ci fossimo chiusi fuori casa Come totta e coinquilino Solo e noi non uscivamo mai Pensa quanto sarebbe stato divertente Se fosse successo davvero Ma l'unica volta in cui succede I due coinquilini non sono in casa Greve Bruttissimo Il mio incubo peggiore A me è successo Ah Ma con noi? Sì con voi Tipo eravate via entrambi Per lavoro Io ero sceso a buttarli immondizia Avevo lasciato su le chiavi Perché poi Ci sono loro che mi aprono Quanto godo fra che Cioè che sia capitato a te Ho dovuto spendere 80 euro Per farmi riaprire la porta Minchia Rieccoci ragazzi Perché ti fa così tanto ridere Che abbia sofferto Mi immagino lui fuori di casa Che fa Oh no Non vengo a entrare Ma chi? Io 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 No Tiar Ridevo del fatto che Una volta lui è rimasto fuori casa E non c'eravamo né io né Diego E mi faceva ridere l'idea Di lui poverino Beh io a Pasqua Sono rimasta chiusa fuori casa Non c'era nessuno E sono Mi sono dovuta trasferire Tre giorni a casa Di alcuni miei amici Cazzo Non c'è animale Io sarei impazzito Alle 6 di mattina Fuori dal mio cancello di casa Senza nessuno che potesse aprirlo Sono rimasto a dormire in macchina Fuori dal cancello È giusto Onesto Sinceramente Onesto Almeno erano le 6 di mattina Hai dormito poco dai Poteva andarti peggio Comunque ragazzi Vedi soltanto quello che la persona Prima di te ha insegnato Sì vedi solo un pezzo Quanto proprio è psichedelica Con l'omino piccolo Che cade in stavalle azzurra Ok Amogus Mi fa tipo fare introspezione Tantissimo Bellissimo Ok ho finalmente capito Come funziona questo gioco Ragazzi Comunque L'ho capito anche io adesso Io Ho deciso di fare tipo Goku e fare una cazzo a me a me Bello C'è il cazzo proprio Nel Londra Sì Ma non so perché È diventato bianco Il mio disegno Cioè non è bianco Perché Perché non si vede lo sfondo Cioè se tu non disegni lo sfondo Io non lo vedo Perché l'assetto Sb È vero perché tu hai fatto tutto Azzurro intorno Ma non hai colorato lì Quindi è Esatto Negativo Sì sì Mi hai fatto davvero È incomprensibile Perché da te Empty Empty Come empty Wow tearless Complimenti Ma come io ho fatto Bravo Quindi vuoi dirlo Qualsiasi cosa io abbia fatto È arrivata vuota Ah tear Ah ma mi sa Non sa che anche a me Prima era arrivata una cosa vuota Quindi magari Vabbè Vediamo Devi cliccare su done Dopo che disegno Lo facevo Lo facevo Sì sì Vediamo il primo disegno Di Duraruzu Scusa non lo so Fare con la voce Sono un cactus messicano Ok Ciao sono Tiar detto anche Eh non l'ho messo Perché volevo divertirmi A vedere cosa Oppure Oppure è detto anche Cioè proprio la parola anche Ti hai rimasto vuoto anche a me No no Tiara hai rovinato tutto Ora non sapevo Ma io cliccavo su fat Nooo Veramente Ma chi è che ti chiama così Tiara a Bologna Alla tre rat No dimmi subito Che ti chiama così Beh io un po' ermetista Scusatemi Axelino Ma perché Axel Ma quella è Ma perché non mi ha salvato niente Come sei arrivato a questa cosa qui Ma quindi Tirlos Scusami I tuoi Cioè Non mi avrà salvato niente Io premevo su fatto Eh perché Ho visto solo il formaggio Ho detto Boh questo l'ha fatto Berta E ci metto il cazzo dentro Allora Vabbè mi spiace Io ho rovinato tutto È tutto quanto vuoto No 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 ma non è un problema Era di prova questa La prossima sera Guarda credo che Credo che Totta sia troppo gentile Sì hai rovinato tutto No c'è No Bello però posso dire Berta C'è qualcosa di artistico Sinceramente Lei è rinunciata A me qua è arrivato Soltanto il braccio E il pene Oh il Warren Buffett Vediamo se Tirlos questa volta No non mi ha salvato nulla No Tirlos Cazzo Comunque se ci cacciate un video Amogus Paul Amogus Paul Se volete recuperare dalla mia live Quello che ho disegnato Ma io che mi premevo su fatto No ragazzi Amogus Paul Questo è Warren Buffett Amogus Paul Perché è l'uncino Quanto è minaccioso poi Nella sua forma blu Perché Amogus Paul Io inizialmente avevo letto Amogus Dalle E ho detto Dalla E quindi Amogus Lucio Dalla Questo è stato il mio Il mio viaggio Amogus Lucio Dalla Ok Io non ho scoperto Qui è arrivato vuoto Non mi dì Non mi dì Ma perché È bellissimo È quello che è arrivato a me Raga Vi ricordate Non mi hai detto Ma perché Ma perché è arrivato a mezzo lì Non sono le maniglie Io avevo fatto un prosciuttone No no Cos'è quello Chino Ma cos'è questa cosa Ha dato la vita a un baby Amogus Col ciuccetto in bocca Le palline Le palline sopra il piede Le vedi Le minuscole palline Sì sì Sono i piedini del bimbo E le palle del padre Cioè cos'era questo Tutti i tuoi disegni stilizzati Sono una lampadina Un tulipano Allora hai fatto tu sta cosa Completa il disegno Che carino Ok è carino però Guarda da notare che Londra è diventato un UFO Io avevo trasformato Ittino Un messicano E invece Invece E quindi Svurtra su cosa disegna No Bertra Ma tu hai avuto Bertra Tu hai avuto un pattern In questa partita Comunque È stato veramente un pattern Continuo Cioè Ci vuoi dire qualcosa Nel senso Riapro subito Amogus Rul34 No Bertra Non lo fare Allora Lo aprirò Lo aprirò così Che il nostro editor Possa vederlo Non lo fare Ti prego Vogliamo provare Oh mio dio Un cazzo enorme Un cazzo enorme Vogliamo provare Allora Ci sono altre due categorie Che sono nuove Che secondo me potrebbero essere carine Allora Una è storia Ovvero Dobbiamo raccontare una storia Usando la frase precedente Ah non si disegna No Si scrive e basta Allora L'altra sarebbe Coop Però siamo in 5 Allora io Dai dai Che se tutto va bene Io non rimango da solo Se tutto va ancora più bene Capito Contiare E fa tutto lui Wow Cosa risentite di fare Ma non possiamo che fare Quella normale Manca Normale Va bene Andiamo per normale Però Scegliamo una categoria Allora Ok Allora Aspetta 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 Facciamo così Al mio 3 Diciamo tutti La prima parola Che ci viene in mente Ok Va bene E poi troviamo Un nesso Tra queste parole E quella sarà Il tema Cos'è La ghigliottina Dell'eredità Ok Allora Non so perché Ma penso che andrà Molto male Sai Io anche Non ho molto Vabbè Dai proviamoci 1 2 3 Twitch Among Us Ho sentito Twitch Nesquick E Struzzo Io ho detto Gomma Twitch Nesquick Struzzo Gomma E Among Us Sì Quindi disegniamo Ognuno i propri cazzi E basta No Non mi viene niente Non mi viene niente Che connette tutte queste cose qui Sono distrutta In questo momento Facciamo uno normale libero E poi facciamo un'animazione Ma devo trovare un tema Sì ecco Bello L'animazione è bella Vai con uno normale Ci sto Facciamo uno normale easy E poi animazione Vabbè Nessuno vuole fare un tema Ok Andate una fanca No No Scrivi una frase Di lunedì Ti do un consiglio Cercane una sul libro Che hai vicino a te Va bene Vediamo cosa c'ho vicino a me Scrive così Non ho veramente niente Di robe di libri E come ti fa sentire Questa cosa Vabbè Sono nella libreria Ma sono per la maggior parte Fumetti e manga Quindi di certo Non roba Che mi rende acculturato Ma dai Guarda che i manga Sono sì Ho capito Bravo Mi piace che hai fatto Tutto da solo Quante volte ti è stato detto Questa cosa Scusami No perché già poi mi immagino No vabbè Comprensibile Dovete fare ok Raga È finito il tempo No L'hanno fatto in tabba Scrivere Tearless Ractor Axel Mi sono uscita Ah ops Diciamo che la statistica Era abbastanza improbabile Ecco No no vabbè Ok 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 Allora Affrontate due demoni Ce la farò Riuscirò a fare questa cosa Io sto traguardando Come una merda Come ogni volta A questo gioco Bert Io non ho idea Di cosa mi sia uscito Siamo anch'io tot Lo sai Cioè è inglese Ma cosa vorrebbe dire Sta roba Mi piace Silenzio stampa A quanto pare Lo devi scoprire Io non so inglese Aspetta The Lords Ehi Che è successo Che è successo Che è successo No 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 Ci siamo Tearless è ancora con noi Per oggi Io E The Lords Vabbè Siamo la stessa persona Siamo la stessa persona Non è vero Mi spiace Sono due persone Abbastanza diverse Nel senso Tearless E Pelato Brava Totta Evidenziamo subito I cavalli di battaglia Di The Lords Presenza di capelli Sì State tutti tryhardando Non ho capito ragazzi Questo è il silenzio Del tryharding Questi Amogus Non si disegneranno Da soli Anche tu Stai disegnando Un Amogus Eh certo Sembra veramente Lo potete chiamare Il video Se lo fate Tipo Una partita Di Gartic Phone Ambientata nel 2020 A me è piaciuto molto Il 2020 Io ci starei Nel farlo tornare di moda Facciamo solo Le prime tre settimane Però No 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 Tutto Tutto No vabbè Anche il resto Daniel ti sei divertito In In casa con me No No A me del 2020 È piaciuto un botto Non andare al compleanno Di The Lords Vaffanculo Guarda che quando farò Il prossimo A numero tondo 30 Quindi tra tipo Sette anni Quanti anni scusami Sette o otto Non mi ricordo mai Se ne ho 22 23 Diventa complicato Contare dopo un po' No ragazzi Mi sono dimenticato Del tempo Pure io Eh ho fatto Un po' un incubo Bello io c'avevo Twitch Amogus Gomma Struzzone Squicca Ma ho disegnato Solo due di queste cose Guarda lì anch'io Che cazzo è questa Ah no Lo vedo O no Vai questa mi sembra Abbastanza Bene lento Questa volta Sono arrivati I disegni a tutti A me è arrivato A me sì Ok Oggi ma è tristissima Questa cosa Perché ho visto Questa cosa È brutta È triste Mi rende triste Non è una cosa felice Non è una cosa Che vorrei scrivere Non è una cosa Che vorrei dire Mi rattrista Giulio è il mese Delle tasse Questo è semplicemente Il tema Cazzo no Non ho fatto in tempo Cosa sto leggendo Ok So come farlo Ho bisogno di una immagine Di riferimento però Qual è il marrone Allora Terza riga Tutto a destra Grazie amo Ti ho detto Una bugia Ma che palle Qual è È quello Terza riga Tutto a destra Non è perché Mi fido più libertà Edide Sì infatti Questo è veramente Imbarazzante Comunque Ma non ho detto Ti ho appena detto Che non è per questo Ah scusa Mi avevo capito Un'altra cosa Ah guarda Ti tratta di merda Ti tratta di merda Bertra Tu veramente Guarda Sei bellissimo Non so come dirtelo Anche tu Adesso vengo anche Tradito pubblicamente Vi lasciamo da soli Un attimo No Abbiamo già fatto Abbiamo già fatto No per favore Ma il vostro canale Si chiama Amichetti Fare quella roba In cui varrebbe Tipo a tradire Il vostro nickname Amichetti con beneficetti Amichetti con beneficetti È vero Basta aggiungere questa cosa E nessuno potrà mai più lamentarsi Scommenso che questa mossa Ve l'ha suggerita Karim Questa è l'opera di Karim Mettere beneficetti dopo Esatto questa è una grandissima Mossa di marketing Perché i profili di coppia Valgono molto di più Quindi appena calano Le vostre amichetti Diventa amichetti con beneficetti Esatto Io dentro di te Cazzo No ti prego Non parliamo Qual è il grigio? Il secondo Cioè seconda riga Prima riga Seconda colonna È complicatissimo È stato difficile È stata una cosa Super deforme Abba affa ancora Non vi dico più nulla In realtà dovrebbe essere così Cosa? Perché cazzo Bello Ok mi sento di Mi sento di aver fatto qualcosa Anzi sai che ti dico Coloro lo sfondo Di questo colore qui Così è giusto L'avevo fatto storto Non mi piace lo sfondo colore Cos'era? Questo è Ho paura di insultare Molto fearless Se dico questa cosa Fai bene Mi sa che hai ragione però Lo dico È già l'ultimo turno Siamo alla fine Quindi si conclude Con la descrizione Peccato No c'è l'ultimo disegno No 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 È la fine È l'ultimo round No The last round Non sono due disegni The last of us The last of us Sì Chissà quando nova Lavorerà della stavast 3 Chissà quando nova lavorerà della stavast 3 Nova poi Nova No vabbè c'è l'automatic voice over delle frasi Te prego Vediamo che cagata è Vai Torta Aspetta che Non so se Ok Ok Twitch among us Come streets O Nesquik Non avete sentito raga Wow Sì Mi sono impegnato Sì Sì Ok Onesto però È una conversazione Interessantissima Odio quando il Nesquik Dice a Mogus Nesmokus Ma che cazzo è questa cosa No Tirless Ti prego Tirless Il punto è Anche se non clicco su fatto Non dovrebbe comunque salvare quello che ho fatto Sì a me li salva il dia di massimo Perché a me no Non lo so Dillo che allora vuoi Che ti paghiamo per farci vedere Non voglio immaginare Non vedevo molto Però Daxel è arrivato Però come hai fatto È arrivato il mio credo Esatto Mi è arrivato il tuo dopo Greve Sono triste Sono triste Tirless 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 Scritto io Ok Molto bene Bertra ma da quando è che sei disegnato Ma tu non avevi fatto l'agrario No io ho fatto il tecnico Agrario No Tirless Agrario Io dopo chiuderiamo Perché non capisco Ok Madonna Che incubo Che incubo Che c'è sta roba Eh non ho fatto il tempo No Non so Mi dava quelle vibes Non me la senti dire Tirless Non hai fatto la mia faccia Ma va bene Che fossi Tirless Cosa ho spelato con la barba Mi ricordo Unica persona al mondo C'è A me spiace Però è arrivato Bello Tirless Fa vedere Che figata Sei bravissimo Mi è piaciuta la mia live Perché Non ha senso Che bella macchina foto che hai fatto Tott È stupenda Grazie Mi sei impegnata tantissimo Sonia Alfa 5100 Daniele Youtubers Daniel proprio lei Che ha la 5100 Sì sì Proprio quella C'è su Amazon C'è scritto Che quella è degli Guarda io ce l'ho qua Io ce l'ho qua La mia 5100 È bellissima La 5100 Perché sei uno youtuber È certo Esatto In quegli anni Chi è che non aveva la 5100 Io Non ce l'ho avuta Non ce l'ho avuta Amaro Tirless Ma te ti sei buggato Cioè io non penso Che tu abbia scritto Strong Couch No 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 Io avevo scritto Tipo Era qualcosa tipo Struzzo Che beve il Nesquik Eh io No 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 Cioè giustamente Ma che Buon dia Formate Ok quasi Quasi Dai Che viene etichettata Vabbè ci può stare Ci può stare La mia è molto semplice Bella mucca però Però è bellissima la mucca Una bellissima mucca Sinceramente Bellissima No pure Delina Pure lei No Giugno è per tutti Allora Datevi un secondo Sto buon dottor Vabbè Finiamo di vedere qua Allora qua Mi sono impegnata tantissimo Che sguardo intenso Raga Mi sono impegnata tantissimo Per fare il primo E poi mancavano Troppi pochi secondi Per l'altro Amogus Viola Dice Adam Amogus Nero Ciao Parà Praticamente Lo scrive praticamente Ciao Parà Era una scurenta È bello però Nel senso E vabbè E niente Tearless Ragazzi Riaggiorni e rientra Riaggiorni e rientra Sei un animale Tearless Ma non è colpa mia Le cose le ho fatte Secondo voi sto fermo Tutto il tempo Non fare niente Ragazzi spezzo Una lancia a favore di Tear È colpa sua Grazie Daniel Odio quando succede Tipico momento E vabbè Quindi se voi Doveste scegliere Il vostro nome d'arte Se foste un rapper Che nome sarebbe? Marco Ma Marco Solo Marco Contando che in questi giorni Chiuderò il canale Per diventarlo Sto pensando a Ma tu ce l'hai già Il nome da rapper? Ne ho diversi Tu sei SpaceX 2003 SpaceX 2003 Però poi Però poi se vado su Spotify Ne devo scegliere uno Capito? Non posso tipo chiedergli Ogni settimana Di cambiarlo Scusa posso sapere Quali sono i tuoi nomi d'arte? Ne ho tantissimi Tiara aiutami tu Allora Tani ti ricordi Quando abbiamo fatto Cos'era? Poké MMO Che avevamo detto Che dovevamo fare La band K-pop Sì è vero Ma non ricordo i nomi Io ero Your Crush Tu eri Your Crush Giusto? Che cazzo Che comunque Con il PR E quelli del reparto marketing Abbiamo tipo Fatto una mini riunione Mi hanno detto Ma non è un po' pretenzioso Ho detto no È riunione finita Beh Avrei voluto partecipare A quella riunione Sinceramente Ma guarda Andata via in un battito Di ciliano Non ho fatto manco in tempo A farmi il caffè Alla macchinetta No ecco cos'era Dani Eravamo Gli Emo Cute Guys Gli Emo Cute Guys Tu eri Pussy Wrecker Sì anche E' uno dei miei vecchi nomi Di quando ero un po' più ragazzino Capito Che mettevo Sti nomi sbruffoni Si fa vedere la tua evoluzione Nel personaggio Alla fine Nella scena che coppa Assolutamente Io poi quando farò il mio libro Autobiografico Scriverò Tutto quanto nel mio libro E dirò Che tipo da ragazzo Comunque ero un po' più Una K-3 Capito Era un po' tipo Una bocca scostumata Ah una bocca scostumata Ma potrebbe essere Una bocca scostumata Daniel Pensa come ti ha chiamato Il tuo vero nome di battesimo Ah si 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 Com'era Aspetta Era The Realogy Gangster Realogy Gangster Era come mi facevo chiamare Tipo prima Periodo 2018 Durante la comunione In famiglia pure The Realogy Gangster The Realogy Gangster Si 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 Sei un Sei un Sei un amogus Poi c'è stato il periodo Dove mi sono chiamato Duraruzu 210 Per 2 Bellissimo Ok E ora In cosa ti identifichi Ma adesso stiamo studiando Con il reparto marketing Comunque per lanciare Pure tipo l'EP E il primo disco Infatti comunque La La cosa che io ci ho tenuto A rimarcare Con loro in riunione Ho detto proprio Testuali parole Mi sono rotto di fare Lo youtuber di merda Voglio i soldi Fatevi diventare un cantante Ok Io posso dirvi Se vi interessa Cioè no Ad oggi Vi identifico La sedia Di Rose Delle Blackpink Si Io Non So Chi siano Le Blackpink Sono un gruppo Di K-pop Le gruppo femmine Le più ascoltate al mondo Sono K-pop femmine Che fanno Plim plom Io ragazzi Sono la cosa più Lontana Da tutta la Cultura Coreana Totta Io ti ho su Spotify Totta Ti ho come amica su Spotify E ti ascolti Tipo sempre della gran musica O indie o depressive Quindi confermo Che Totta Non Conosca il K-pop Condivido Adesso Ti ho aperto Spotify Possiamo dire cosa ti stai ascoltando Totta Certo L'ultima L'ultima ascoltata Allora Dico la sua E poi dico pure la mia Così ci mettiamo Ma aspetta Ma la mia cosa Vedi Perché io qua C'ho le canzoni Che stanno in live E poi l'hai cambiata E poi l'hai cambiata Perché sono le canzoni Che stanno in live Ragazzi Ora ne ho messo una figa Ma chi ha il mio stesso cognome Oh Sono geloso Ma no Prima avevo Too close Sì comunque ragazzi Certo Cioè io già credo Di aver intuito Dal titolo della canzone E del gruppo Che sarà una roba Tipo chitarra soft E molto tipo Ma cosa Hai lasciato Ma un attimo Perché hai ancora Il vecchio Spotify Ancora Cosa Ma perché hai ancora Il vecchio Spotify Che significa il vecchio Spotify Io c'ho tutta Si si è aggiornata La visuale Sì 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 Anche io c'ho La grafica nuova In questo momento Io nel mettero Cioè pepper cogliate sotto Con no cock E con scocche Tipo tu non mi esci mai Su Spotify Cioè mi privi Proprio del gusto Di The River No scusa È che adesso Da me è scomparso Non so più come vederlo Vabbè comunque A mia difesa Ok A mia difesa Io c'ho Io c'ho star Di Shiva Fit Paki Sì ma ragazzi Paki De Urla Paki Bravo Bravo Vedi Purtroppo non si può vedere La cronologia di Spotify Vero Eh mi sa di no No la cronologia no Eh sennò sarebbe stato bello Però A me cosa esce come I brani preferiti di questo mese No non è niente di importante Comunque Totta Credo che hai un amico Con il mio stesso cognome E spero di essere il tuo preferito Ma dove Tra i miei follower su Spotify Non so di chi è lo schermo Questo? Ah no è Totta allora Eh sì Tra i È mio Tra i titanici di Totta C'è qualcuno con il mio stesso cognome Io spero di essere il tuo preferito Con quel cognome Qual è il tuo cognome Axel? Santarelli Ah Pensavo Axel Sì sei il mio preferito Con quel cognome Pensavo Axel 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 Tipo ascoltati di recente Io oggettivamente sì Questa cosa mi distrugge psicologicamente Cosa? Il mio cognome È il mio nick di Youtube Il mio No Mi spiace Scusate Ero un attimo curioso Di vedere una cosa Ora che abbiamo aperto Questa parentesi musica E visto che sul sito di Arcadia C'è scritto che io sono una creator Che parla di musica Per non so quale motivo Grande amante della musica Vai Dico Come si fa a vedere Tipo Quelli ascoltati di recente? Allora Vai sulla coda Delle Delle Canzoni E poi vai in alto C'è la sezione coda Ascoltati di recente Allora c'è la cronologia Ah è una cronologia Ok allora Togliamo la parte di Ok questo è quello che ho ascoltato Prima della live Uscite i vostri Spotify Vai Questo è ciò che ho ascoltato Prima della live Solo ed esclusivamente Taylor Swift Con un po' di Conan Gray Ozzy e Harry Styles Da qua in poi Com'è che si vedeva Troppo adotta Ah che bello Io c'ho Io ho la sigla Dei Cesaroni Nell'anno No Ascoltate Adesso che ci siete voi Di Matteo Franciamore Come si vede Come si vede Come si vede Sullo Spotify Ho quello E ho anche la polenta Taragna Rock dei Nanowar Nessuno me lo vuole dire No no Ho anche ascoltato The Strokes E Miley Cyrus Ah questo è quando Mi sto facendo la doccia Ho bisogno di Miley Cyrus Sì E Ombrella L'ultima che ha fatto Non è male Mi esce sempre il radio A me non esce un cazzo In ascoltati di recente Vabbè fa niente Esatto ma dov'è Ascoltati di recente Allora io vado Voi nella coda E poi c'è Ascoltati di recente E poi su in alto C'è ascoltati di recente Eh io non Ho vuoto Ascoltati di recente Perché mi sa che Come ho cominciato sulla coda Un attimo Perché ho appena Loggato adesso È il simbolino A forma di pisello Vicino al play È vuota Perché è vuota Aspetta forse Perché da piccino L'ho ascoltata oggi Solo da cellulare Vediamo Eh ma no Io anche questo L'ho ascoltato da cellulare Amica da pc Eh scusa Sono inferiore a te Ma no Cioè Matteo Branciamore Spacca Matteo Branciamore È abbastanza imbarazzante Matteo Branciamore Chi è Matteo Branciamore È Marco dei Cesaroni Ma? Che cazzo stai dicendo? Sì è la sigla Dei Cesaroni Ah ok No una cosa Imbarazzante Matteo Branciamore È l'attore che faceva Marco Ma e ha fatto la sigla? E ha fatto la sigla Che non lo sapevi Ma no Sì questo è l'orchini Ma letteralmente È tipo male fuori Dentro tutta la serie Canta lui con la chitarra Sempre Ma che cazzo ne so È un personaggio Cioè se vedo un attore Che fa il poliziotto Non penso sia un poliziotto Nella vita vera Sì ma che secondo te Un attore impara magicamente A cantare A suonare la chitarra Solo per un personaggio Magari lo sapeva già fare Vabbè Oh quel tale Francesco Tatti Si è allenato Tipo sei mesi per fare Speravo di morire prima Speravo di morire prima Mood Vabbè Le ultime canzoni ascoltate C'ho Blank Spacey Terror Swift Minchia C'ho Cicatrici da Riete Ma perché stavo facendo Tipo terapia d'urto E ha funzionato molto bene Ho pianto come un disadattato Ecco raga Ok Un saluto a Riete Ciao a Riete Spero che ti venga in cioce Io il mio momento cringe L'ho vissuto nel 2021 Ok Dove per non so quale motivo Va a consultarmi Nei miei brani preferiti del 2021 Ci stavano un botto di canzoni Del Glee Cast Maronna Glee Imbarazzante Ma tipo troppe canzoni del Glee Cast Raga Era veramente Imbarazzante Minchia vabbè Il periodo Glee Il periodo Glee Ce l'avete avuto tutti Io no Io no Infatti ho detto C'è l'avete Anche perché gli Glee Davano su Sky Io non ce l'avevo Cioè guarda No vabbè raga Non so se vedete il mio schermo Questi sono i più I brani preferiti del 2021 È tutto Glee Cast Vabbè Tocca Tocca dell'erba Torniamo a giocare a Gartic Phone Tocca dell'erba È stato simpatico Io volevo sentirle due canzoni Ascoltate da Tiar Oltre quelle Che saranno sicuramente Un incidente Eh dai Tiar Quali sono Allora Anzi Aspetta Ma io lo posso vedere anch'io Non lo so Io vorrei capire come Infatti Ma in realtà È tutta quanta musica Degli anni 2000 Principalmente Barra fino anni 90 Vabbè Tiar È sempre quella Da ascolti Dagli anni 90 È quello Che cazzo vuoi Quella mi piace Ma come ti chiami su Spotify Posso cercare il tuo nome Il tuo cognome O ti No 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 È Tiar Sraptor proprio Ah ok Infatti sì Mi dovete aggiungere Tutti su Spotify Eh dimmi come ti chiami Daniel Daniel Devo vedere cosa ascoltate E gioccarlo Però ovviamente Se voi lo fate con me Me la prendo Sì ma io mi ricordo Che una volta Ti ho seguito Seguimi anche tu Mi chiamo Riccardo Bertrand Una volta Va bene Riccardo Mi stavo ascoltando i Paramore Grazie Daniel è arrivato in stanza E infatti E l'ho visto dal mio pc Che ti stavi ascoltando i Paramore Coglione Tre giorni dopo Daniel stava ascoltando i Paramore Perché me li hai fatti tornare in mente E quindi quando glielo ho fatto notare Fava sì però se lo faccio io va bene No ma io vorrei dire una cosa Cioè Bertra Tu hai un appelliste Che si chiama Immagina Dragoni E c'è una singola canzone Aspetta no no E non sono canzoni tutte intrippanti Ma sono veramente canzoni Degli Imagine Dragons È tristissima questa cosa Bertra Bertra Facci l'idea al concerto ad agosto No non sono un fallito Ma è a giugno Grave È un concerto degli Imagine Dragons È a giugno mo No È a giugno È il 26 giugno Siete a scassi Perché pensavo 5 agosto Non lo so perché oggi un'amica sta vendendo i biglietti Se a qualcuno interessano Ma Stai a Roma Daie sì Perché mi sono dimenticato e non li ho comprati Non vuoi dire che io non vedo tue canzoni Brutto Manco io le vedo comunque Pure su Spotify Dlorzo Dlorzo Tu come ti chiami? E io e te mi sa che già ci abbiamo a vicenda Su Spotify Perché Daniel Dlorz Perché io non te vedo qua a destra Eh io sì Perché io non la vedo Ma stai a vedere che io non la mia Io non ti seguivo Ah no ecco Ah E vedi allora Wow Comunque sì Riccardo Bertrando Ti ho seguito C'hai quella foto là Che sembra che devi fare il colloquio di lavoro Porco Giro è vero Sì sono io Assoluto Però è un assoluto sponsor Era il mio merce Grazie mille Bertra Sì Prego Mi informazione se è possibile Certo Perché io a destra non vedo Gli amici Perché non hai amici Devi attivarli Dalle impostazioni Wow Comunque devo parlare Tipo un botto di followers Eh infatti No basta Giochiamo a Spotify No caglietto Hai visto quanti Dall'Arts Ma tu ti fai seguire Pure dai FUNS Su Spotify Oh sì Siamo amici Ma è perché ho fatto Un paio di playlist Che ho condiviso Quindi Ah È vero Io condivido sempre le playlist Ho la playlist del funk Che ha 1400 follower Pazzo furioso Siete pronti per giocare Raga ma io scusate Sto pensando ora Che noi stiamo tutti Registrando l'audio Quindi l'editor si boccherà Sì 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 Vuoi caricarlo tu sul tuo Secondo canale a caso Tipo Totta Musica 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 Vabbè ragazzi Comunque no Prima stavo dicendo Sì Dicevo prima Bertra Ma tu Bertra Non ti ascolti quelle mega playlist Che hanno nomi Implacabili Boh Musica d'allenamento estremo Pompa i ficipiti Fanno tutte Troppo cagare È vero È vero Pure io certe volte ci provo Poi parte subito Le canzoni di Eminem Del 2011 Allora devo levare subito Però ho la mia playlist Che si chiama Dov'è che è Metallo del lavoro fuori pesante Ah no Metallo del lavoro fuori workout Solo Scusa ho sbagliato Giusto giusto Beh immaginavo comunque Che una playlist workout Fosse presente Però l'ho fatta io Quindi è tutta fatta Tutta piace Chi è che è uscito Tearless ti vedo No sono uscito Perché mi ha detto Che mi ero disconnesso No 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 Adesso sto riguinando Ring 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 Che era la mia domanda Dunque questo è il mio momento Per dirvi di ascoltarvi Le mie playlist Perché io sono molto fiera Delle mie playlist Eccomi ci sono Le mie playlist Le mie playlist Sono infallibili Prima che sia troppo tardi Che è successo Animation Animation Inizio Sì vai con animation Fai animation Bellissimo Torta non ti ho fatto partire l'audio Se non lo faccio partire ora Ma sei un coglione Fai partire l'audio Scusa Prima quando si è giornata la roba È esploso Ah devo concentrarmi A giocare Sì Ah animazione Ma che cazzo No piano Ok allora Partiamo dalle basi Procedo a disegnare Grazie Grande Stai ridendo per me Sì Allora sono felice Dai Questo riciclo di disegni Che ho fatto prima Ma che non sono stati visti Wow Visto Sei un pazzo furioso Con un Trasgri XD Ma se lo dici così Mi viene il piparitto Però eh Vorrei poter Zoomare Trasgri XD Ragazzi Solo un marrone Terza riga Tutto a destra Quello di prima Grazie Prig Ok Io non so perché sto disegnando questa cosa E mi pentirò malamente di essere nato a breve Ok ragazzi Mi sono concentrato e ho disegnato Anzi ho giocato Hai compiuto il gioco? Ho compiuto il gioco Sì Allora no Io ho bisogno di una reference pick Scusatemi perché ci tengo a disegnare molto bene Non si può colorare nell'animazione No me l'ho accorto prima Minchino Merda No Che cazzo dite E niente Troppo tardi Bene ragazzi Sì non lo sapete che non si può riempire con il riempire Ho cliccato su fatto L'hanno visto tutti Da tier 1 sub to casterius Strattino basso Grazie Togni Ma che cazzo Grazie mille Togni Togni grazie mille per le 10 sub giftate Fra grazie mille Concentrarmi e giocare Ah ok ho capito Ho compiuto il gioco Ok Perché altrimenti qualcuno in chat mi ricordava di The Game No pezzo di merda A me è arrivato quello che dovrebbe essere Tearless Ma in realtà sembra Cichevara Raga ma perché fate tipo i disegni complicati Che poi mi tocca ripassarli tutti Cioè Aspetta ma io devo fare solo lo step dopo Quindi non devo ritracciare questo Sì No devi anche ritracciarlo Sennò non si vede Ah ok Cioè Ragazzi Deve anche ritracciarlo Sì Non ce ne sono Bertra Stai tranquillo Madonna Non vedo l'ora che tu mi inviti al tuo prossimo compleanno Doresti sapere che io per tua norma Ho fatto dei magheggi a comune e ho ufficialmente annullato il mio compleanno Per sempre Cazzo Mi hai fatto una burla Per non invecchiare mai più Mai Non invecchia mai Chi fu male Madonna fraga che hai tirato fuori Sono diventato 14 anni di nuovo Mamma mia guarda Bertra questa canzone che ho sul telefono Me la passo con il bluetooth Ma che bluetooth con gli infrarossi raga E parla di questi ragazzi che si fumano le cannes No le canne Non è vero Sì bro bro Ok ora nel mio disegno farò una canna Bello Vabbè scusate non volevo distruggere il vostro vibe Il vostro mood No tranquilla Il vostro feeling Rovini le battute tranquilla Totta comunque Vabbè è un elemento che potrebbe far parte del tuo Della tua skin Tipo ragazza indie Chitarre E le canne Tachipirina 500 per due Minchia la Tachipirina 500 se ne prendi due Famille Famille per quello l'ho detto Tururururuuu Tururururu Io ho fatto ragazzi Bene ragazzi Ho creato il mio disegno Tiar Dimmi Volevo dire una cosa importante Che mi sono concentrato E ho giocato Su Hai fatto il gioco bravo Daniel che ha compiuto the game Se ne delle frecce di indicazione Per capire l'andazzo del disegno Sarebbe molto comodo Ma i cazzi tuoi tu mai eh Oh ti giuro Berta spero davvero che la tua vita fallisca Vabbè anche a far così Che la tua vita fallisca Cazzo bro Eh è pesante Fran No Io mi sento un po' ferito Vabbè Axel Vabbè tra sti cazzi se ti senti ferito Berta ma ti mando anche i meme di CS Ma che vuoi di più Hai ragione però non mi mandi mai il cazzo Questa cosa un po' mi ferisce Ok va bene Axel Mi mandi le foto del pisello Fai bene Perché mi sto impegnando così tanto A fare un gatto sexy Ci sono certe cose che sono importanti Nella vita Mi avevi detto che era finita Quella fase Cazzo No 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 Non l'ho fatto io Basta 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 oversexualizzare i personaggi Di The Garfield Show Lascia fare girl Lì me la bomberai tutta Anche odi Ok Ma vi hai detto che era finita Con sta roba Troppo tardi Eri iniziata No ma Fra te l'ho detto Che Garfield è un cartone Dei bambini La devi smettere Fra Lasciami credere in quello che voglio Alexa cerca Garfield rule 34 Oh no si è attivata davvero Alexa stop Si è attivata in salotto Non so che cazzo abbia fatto Turutututu Turututu 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 Ring 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 Banana phone Turututu Voglio un pisello nel naso Eh? Eh? Eh Tipico Eh Tipica Abbiamo bene o male i stessi gusti musicali Possiamo fare il Mamma mia quanto è storpio Vai Axel Adesso le devi dire Tipo che Tipo che Adesso che l'hai stesa Con la roba dei discorsi musicali Dille tipo Che vuoi farle ascoltare una playlist Vai 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 Che hai fatto tu Pensando a lei Vai cazzo diglielo E piangi un sacco quando l'ascolti Perché sei un ragazzo sensibile Non come gli altri Sì dille che ci sta tutta quella musica fatta da ragazze scalze Con la chitarra che piacciono Non mi dite così per favore Se ci stanno alcune canzoni mi fanno piangere davvero Non devi piangere davanti a me Io non ascolto Quali sono gli artisti Di ragazze scalze Che cantano Allora fidati che le ragazze scalze Fanno dell'ottima musica E se siete ragazze scalze Scrivetemi in privato Ma no Totta Non volevo di certo assumere La tipologia E dai E dai No 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 Assolutamente Assolutamente no Ma ti pare che sono una persona del genere Ma no ma serve del rispetto per queste cose Nel senso Non è che puoi dire Cioè puoi andare lì e fare Cioè nel senso insomma No 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 io No vabbè No è per di c'è Nel senso Io rispetto le ragazze universitarie che suonano la chitarra E E le ragazze che suonano la chitarra regaliamo E che prendono la tachiprina 502X E tu tu fai una chitarra? Sì Axel Axel c'è il cazzo durissimo in questo istante Non sono così volgare e superficiale Però Lui ha il pene Durissimo Ci stiamo arrivando raga Ci stiamo arrivando Cosa? Eh Alphal Non sono un ragazzo come tutti gli altri Che ascolta la mia playlist Ah ok ok Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo lì Vai Axel il tuo momento Ma io non voglio darle la mia playlist Vorrei farne una con lei Bello questo Cazzo Ma c'è Spotify che lo fa in automatico Ma bello cazzo Cioè su bel cazzo A me ma toglie la magia Non deve farlo assieme Non era un bel cazzo Assolutamente No perché quello lì Io ne ho ben tre Sullo schermo in questo momento Beh? No Tiar Ah che burlone che sei No no non sono io il burlone Non sono io Ad aver fatto queste cose Che burlone Foto in privato? No ho detto che c'era sullo schermo Che le sto disegnando No Senti Bertra Non puoi sapere le cose di me Tiar Che siamo super amici E tu Non fai parte Perché non sei venuto al mio compleanno Dove sono stati Non siamo super amici Siamo veramente amici Siamo veramente amici Siamo veramente amici E infatti Non hai invitato manco me E ci conoscevamo Modelards Allora Axel perché non ci conoscevamo ancora Che cos'è sta roba? È Totta perché Non mi viene una scusa migliore Di quella prima In effetti È inattaccabile Cristo Eh wow Complimenti Perché sono una donna? No c'erano le femmine Il mio compleanno Ah ecco Loro ha fatto bene A non venire Ci stavano Ci stavano Le femmine Il mio compleanno Sei pazzo Per quello Non ho fatto venire a Bertra C'avevo paura Capito Che poi dopo Bertra Col muscoletto Facceva vedere Tutti i suoi video privati Fatti con l'iPhone Di lui che fa gli squat In cameretta Però in realtà Tutte quante erano Già impegnate È vero Le femmine Le tipe Le femmine Ma no Dani Non dire mai più le femmine Le femmine Proprio ridendo Le femmine Dani Non osare mai più dire Le femmine Hai ragione Hai ragione Quelle ragazze donne Erano tutte simpatiche E rispettabili Ma c'è stato un video qua? Cosa? Come sono andato Nella seconda versione Molto meglio Ma guarda Se finchè le definisci Rispettabili Va bene Certo Rispettabili Però proprio il termine Le femmine Che è cringe Certo fratello Questo invece Com'era? Questo cosa? Niente Non sei più buono Come una volta A farmi da spoglio Daniel sono concentrato A disegnare Pure io fra Eppure riesco a fare Due cose insieme Io no Tutto coglione Tu riuscivi a fare Due cose insieme Daniel sto invecchiando Mamma mia Tu si tantissimo Ciao Totti e Berro Lascia fare Le femmine Vabbè te lo so ancora 20 anni Quindi è fatta Io no Io no Quello più piccolo Mi sa qua dentro Quanti anni c'hai Axelino? 20 Che caruccio Mutato No Mamma mia Questi ragazzini Comunque se la prendono subito Non conoscono il rispetto Se la prendono subito Una proposta migliore Della playlist Dimmi Caldo sesso? No niente sesso Quello dopo Non ho idea di cosa sia Visto che devo salire Questi giorni Ti andrebbe di suonare Un pochino assieme Tu suoni la chitarra Io suono il piano Tu dove cazzo Lo tiri fuori un piano? Scusa Tranquilla Ci penso io Wow Tra quello Axel Ti avevamo detto Di dire l'altra cosa Mi porto l'altra chitarra E suoniamo in due Con la chitarra Madonna Va bene Ho due chitarre Suoniamo le basi di Taylor Mi sento male Bertra Bertra Ma c'è Che non sta leggendo Il foglietto Che gli abbiamo dato noi E lo so Lo so Noi ti diamo Il foglietto Delle cose Che devi diattotte E tu dici Le cose Di tua spontanea La consulenza La paghi comunque Sul foglietto Ce l'ha scritto Proponi Una playlist E dopo Ce l'ha scritto Drogala Non è vero Capite che c'è un problema In questa cosa Quello ce l'ha aggiunto Bertra Io ti avevo scritto Una cosa dettagliatissima Come dovessi presentarti Sotto casa sua Con le casse JPL Palla E la macchina Vetri neri Senti che ti ha pagliato l'audio E hai detto JPL No JPL Le casse JPL A palla E la macchina Con i vetri neri Le casse JPL Vogliamo vedere Questo album Oh Non è stato Che fare una maglietta Con scritto JPL Ormai l'ho detto Però è l'ideale È sua È sua La maglia JPL Certo Cos'era Totta questo Un ditto Doveva essere un ditto Poi scoperto Non potevo riempire La forma Ma Roc Che ansia Veramente brutto Oh Li ha presi i disegni Oh grande È vero Tearless ha fatto Il primo disegno Di oggi E vai finalmente E quel ragazzo È l'animazione Scusa Dopo si vede No è vero Scusatemi Ok Sto funzionando Ok Vai Vai No Ok Aiuto Saku 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 Sakuatemi 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 Stavo pensando A totto Ho smirato Scusate Avevo messo pure La linetta Per completare La frase Vabbè Non è fluidissimo Però No però Vabbè Ci sta Il suo perché Ma Emozionante Ci sta Ci sta Eccomi Ok Allora Io mi sento Di aver fatto Un bel lavoro Qui Mi pare Carcutta Perché Si è accartocciato Il corpo Sta Correndo È una Diera Ma cosa fai Diera Mi sono stilato Una tetta Sei caduto nel vortice Sono caduto dentro No il tunnel della droga Sei caduto nel tunnel della droga Ah volevi fare il backflip Ok però è una bella animazione Bellissima animazione E' come quando dici Sono stato inciampato In una giolla Odio quando succede Odio quando succede Madonna veramente totta che fastidio Quando inciampi e ce l'hai già lì Ma io non volevo vi giuro Non volevo ma manco io Ma infatti io ce l'hai inciampi Vabbè Io ho fatto Gattino Voi cripto No vuoi cripto Sempre più puttana nel frattempo Si 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 sta prendo sempre di più Tieni Che ha fatto se sghiscia Si è piaciuto addosso Si è piaciuto addosso Ma totta Ha guardato Guarda gli occhi Guarda gli occhi Gli occhi sempre meno dettagliati Fa ridere perché ha perso di qualità man mano Si è sciolto E' arte pura raga L'hai reso in valido Posso farvi notare la cosa Bertha tu hai scritto cripto con la I Ho messo la I Non perché mi dava fastidio Comunque come in ogni caso Da notare che il degenero del gatto Il degenero del gatto inizia appena tocca le cripto Le menziona Si è vero Prima era una persona meglio Ok Ma quello è il famoso Pokémon Raichu Ho fatto anche le linee guida Io qui purtroppo Vabbè No fra hai spoilerato la prossima idea dei prossimi giochi La nuova forma Madonna magari mi mettessero la feature per schiacciare i Pokémon col martello Dai Nintendo Bellissimo Bellissimo No dai E' arte E' un porte E' un porte povera E' bellissimo E' abbastanza arte povera Mi piace Questo quadro lo chiamo il declino dei Pokémon Hanno anche schizzato i pipotti I pipotti No Il Gabibbo ha visto un prosciutto che è un po' upset No 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 Il Gabibbo detiene il prosciutto Il Gabibbo è incazzatissimo con il prosciutto Ha lanciato il prosciutto Ha lanciato il prosciutto Ma sul fuoco Ha lanciato all'indietro ma è tornato in avanti Il cazzo lo vedi L'ha rimesso avanti Ed è apparso il fuoco sul tavolo Madonna quanto è compiaciuto che stia cuocendo Chef Mi piace che la certa cambi colore Sì è vero Comunque lo lancia in un modo Perché è diventato rosso di rabbia Lo lancia in un modo molto particolare È perché prende la ricorsa Ha avuto un bel effetto alla fine No ma infatti è una bella animazione mi piace Bellissimo Gli darei un 9 su 10 Bellissime palle Niente da dire Bellissime palle Guarda mi sembra che lo stia sbattendo È infatti sembra che lo toglie e lo rimette Aspetta Vediamo se No non ce l'ho a fare Viu 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 Ah sì aspetta Ok questo qui No No Questo è bellissimo No No qual'era? Nella mia stessa c'era uno che andava bene Quello delle cripto è stupendo Ma anche questo va bene Questo va bene Che sembra che stanno martellando Un cazzo fra Stai scudendo Stai scudendo Spostando in fiera con la nostra maglia Ma la dobbiamo pagare Ok Sì sì Cioè mi metto la maglietta che volete Pure se è brutta Le mie Il mio merch è molto bello Eh totta Ci possiamo accordare sul prezzo Mezza giornata Un aggior Un aggior E niente Sta morendo la connessione Mi fai un rate My merch Me lo devi far vedere Ok Anche se in realtà ormai Cioè non lo sponsorizzo più Quasi non lo vendo più Il declino dei merch fissi Io li faccio Tipo Viete due settimane Dove si fa? Arcadia merch? Ok Credo di sì Creators Ah con Arcadia Sì mi avevano detto Dani facciamo una maglietta Allora Sì certo Io ho questi bellissimi Tutto giù due idee La facciamo Ho questi bellissimi cappellini Eh Non hai ancora ottimizzato Di cui vado molto fiera Cappellini totta molto Ma dovresti far vedere Totta in live Perché ho la live in pausa Ah è vero Non li sto a far vedere Manco in live Tra l'altro Ah no Allora è giusto Allora fammeli vedere su Discord Non lo so Fammi rivedere dove vuoi Ok Ma Chiudiamo la rec Ma continuiamo la rec Ah è vero Ciao Ma secondo me Ciao Ciao Se noi cartic Abbiamo fatto Dai ragazzi Potete chiudere la rec Allora Ho fatto queste cose Mi spiace un sacco Avere questa rec Di 20 minuti Utile Abbiamo di quale magliette Aspè che sto a salvare la rec Aspè che sto a salvare la rec Che mi piacciono molto Axel ha questa Bertra pure Devo dirlo Scusate A dove la steffa verde A dove la steffa verde Merce di totta È una delle cose Più comode E belle Che abbia mai indossato In una niente La vita È veramente un gottier merch Il mio Sono molto fiero Del mio merch Peccato che non mi hai fatto È molto Molto soft Devo dire Ed è ricamato Questo Non è che è stampato È ricamato Ah tra l'altro Ce l'ho adesso Ah Axel Ma sei proprio E il cappellino greve Bello Il cappellino greve Molto bello E il cappellino greve E poi Tra l'altro io ho scoperto Trogliti dal cazzo Poldo Sto facendo vedere il mio merch Ok E poi Questo qui Anche che a me piace molto Tra l'altro Totta io ho scoperto Che anche tu dici Un botto greve Infatti ho detto Beh cazzo Grazie al car È di Roma Eh sì No cioè Perché lo dico Un botto pure io Ah non lo so E beh ti devi comprare Questa maglietta allora Eh mi sa Che me la devo comprare Se vuoi te la regalo Eh beh guarda Stavo aspettando Che lo dicessi Perché dai Insomma Ragazzi c'è tra Youtubers Dai su si regala Io ho mandato Totta la foto di me Che ha indossato Maglietta Perfetto Axel Ma non è vero Ma non stai indossando Nulla in questa foto Cazzo Axel Dai Axel C'è questa Che ho fatto pure Le felpe E E poi c'è questa Sempre greve Versione Vice City E Che sta Che sta carino E poi queste sono le felpe E poi c'è Grave le guardie Eh beh sì 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 Ci sta comunque Evidenziare un po' Quell'attitude Sì vè Sfacca E beh questi Questi sono Questi sono i miei Questo è il mio merch Questo è il mio merch Bellissimo Beh devo dire Non male come merch Io vi saluto Buonasera Arrivederci Grazie della compagnia Dai un voto al mio merch Prima di andar via Ah il tuo Ah ok Lo devo dare io o tier No tier Perché ora va via Tu hai tutto il tempo Per esplicare No tanto prima tu danni Solo mi sento in imbarazzo Beh beh io pure Io pure vado Però devo dire Dai allora Soft Non ci sono le pataccate Appese sopra Attaccate sopra Non ci sono queste robe qua Quindi gli darei almeno Un 8 su 10 Quanto dovresti essere pagato Tipo è veramente Quel trend di tiktok Quanti shot dovrei fare Prima di Ragazzi io Io veramente Adoro la visione Di un mondo In cui io vengo pagato Per fare questo Beh potresti Cioè non è così distante Quello che fai per lavoro Se vuoi mi metto pure Tipo il logo Del tuo canale Tier sulla fronte Quanto ti dovrebbero far pagare Eh tatuato Tatuato costa un botto di soldi Tipo una paga mensile Ti tatueresti Un piccolo logo di tierless Dove vuoi tu Anche sulla chiappa Allora Lo farei tipo in una zona Tipo super nascosta Così non devo stare A dare spiegazioni Ogni volta che esco Beh giusto Tipo la fronte Ah sì 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 Sotto l'occhio Sotto l'occhio Ho fatto un merdate Per molto meno Allora ragazzi Hai un tatuaggio Che ho scritto merdate? No ma è C'è un piccolo pene Io ancora non ho tatuaggi Io ne ho Anche se lo so Che la mia attitude Da bad boy Sul web Noi l'ho visto il tatuaggio Sulla schiena Ah beh sì Vabbè il tatuaggio Sulla schiena Cioè ce l'ho Talmente da tanto Che ormai mi dimentico Di averlo Vabbè Hai un tatuaggio Sulla schiena o M? No no Veramente Grande Tutta la schiena Proprio Da sopra a sotto Tutta la superficie Beh È un mezzo busto Di Tupac Con le mani giunte Che ho scritto sotto O su una pergamena C'è scritto Cosa ce l'ha scritto Rispetto di tutti Paura di nessuno Esatto Perché ce l'ho dietro Quindi non lo leggo sempre Rispetto per nessuno Paura di tutti Ragazzi Potete Potete Andare via Ora se volete Va bene Aspetta 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 Vi volevo dire Oh cica No io vi vorrei qui Per sempre Con me Però vi volevo dire Che prima di andare via Vi ho mandato Nella stanza La cartella Dove potete caricare I file audio Se volete Ok Vi mando un bacio Ciao Va bene Grazie per essere passati Sfanculati Così assurdo Ma no Axel Loro dovevano andare Ah no Vuoi andare a fare Un culo Ti ero già Escolto Ti ero scappato In un secondo Vabbè Allora Come sempre Come sempre Vi saluto tutti Ciao Axel Ciao Totta Forza Roma E ci vediamo Alla prossima Forza Roma Ciao Un bacio Un bacio Un bacio Ciao 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 Dimmi Io ho una proposta romantica Per te Prima l'ho fatta a Totta Ora la faccio a te Cosa Ci facciamo un bel tatuaggio assieme Ammazzami piuttosto Vabbè Perché non ti vuoi tatuare Una frase di Taylor Swift Bertra Della tua cantante preferita Feli Se vuoi ci tatuiamo La percentuale Di far uscire un oggetto d'oro In una cassa di CS Minchia Cos'è 0,003 0,1% base È 0,1 solo Cioè così tanto Così tanto Beh è 1 su 1000 Non è così male 1 su 1000 ce la fa 1 su 1000 ce la fa Va bene ragazzi Che dire Noi ci vediamo domani sera Domani sera Allora Domani sera cosa facciamo di bello? Horror Horror Con Codomo Codomo E Axel Noi Ci rivedremo Mai Nella nostra vita Prima o poi si Pensi di tornare in live con noi O oggi ti ho reso triste Se vuoi posso rimanere post live No io devo andare a dormire Ragazzi Ragazzi scusate Io sono entrata nel mio mood esami Cioè lunedì ho un esame Mercoledì ho un altro esame Ok ok tranquilla Grazie Allora non ci rivedremo No va bene Ok No è andata così Vabbè ciao 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 Bertra Dimmi Non staccare tutto Ti ho visto che stavi per staccare tutto Era un ciao ad Axel Non un ciao alla live Era un ciao ad Axel Ti ho visto che stavi per staccare tutto Mi hai bloccato nel momento in cui Il mio ditino stavo andando a camipay A chiudere fortissimo Ti ho visto che stavi già andando a chiudere tutto E ti ho proprio visionato Allora Dumpster diving si farà ancora In realtà ragazzi abbiamo un sacco di informazioni da darvi Ora che possiamo Per voi che siete rimasti Allora Prima informazione Domani ci sta Dalle 20 alle 22 L'horror con Misola Lago Domo Mercoledì Quindi siateci perché Horror con gente che sa giocare Quindi mercoledì ci sta un bella Vanilletti E poi Steam d'Amster Diving Vi ricordo ragazzi Che voi potete consigliarci I giochi Al quale giocare Su un pratico form Guardate Vi condivido lo schermo amici cari Amici cari Stelle Se voi andate sul nostro disco Questo steam Se voi andate sul nostro discord Che è questo Amichetti Fate punte scanati al discord in chat E poi scendete Ci sta a sezione No E poi salite No E poi scendete E poi salite E poi andate a destra Do cazzo sta Dove l'ho messo il link Dov'è il link Se non lo sai tu Eccolo Ok Se salite Informazioni e link utili Su consigli C'è questo mio bellissimo messaggio Con questo form Se voi aprite questo form Ok Questo è il form ragazzi Potete mettere I consigli dei giochi E consigliarci dei giochi Quella foto Quella foto Quella foto Ogni mercoledì Dalle 21 alle 23 Quindi mercoledì Ci sarà la nostra bellissima serie Di steam dumpster diving Al quale voi potrete partecipare Con questo Con questa metodologia Giovedì invece ragazzi Ci sarà il Discourse Got Talent Dalle 20 alle 22 Ospiti speciali Serie Ospiti speciali Edo fa cose Venite E mostrateci I vostri talenti E noi saremo felice Di giudicarli Dalle 20 alle 22 Mi raccomando Talenti belli raga Cosa serve Un microfono E una webcam Dove dovrete venire Sul discord E c'è la stanza Apposita Per il talent C'è proprio una stanza Chiamata info talent Dove potete avere Tutte le info Che vi possono Lontanamente servire Per qualsiasi vostro dubbio Oltre questo Venerdì Ci trovate Ancora in live Perché dobbiamo Recuperare Martedì prossimo Che non saremo in live Quindi questo venerdì Ci vedrete E porteremo La Vanilletti Dalle 18 Alle 20 Quindi venerdì Live extra Dalle 18 Alle 20 Segnatevi Mi raccomando 18-20 Ma Axel Ma che cazzo Ma pensavo fosse uscito Ma io non mi abbandono Dimmi Axel Se volete posso essere Il vostro Nuovo amichetto Sulla Vanilla Che ti No La Vanilletti No mi dispiace Però puoi mostrarci Un tuo talento Nel building Giovedì Credo Che lo farò Veramente? No Ah Avevo capito Vai Mostracci qualcosa Ok Va bene Detto questo ragazzi Vi ricordo sempre Di seguirci su Telegram Perché lì C'è un botto De cose utili Perché Cioè Porta noi Diciamo qua Insomma Venite da là Detto questo Vi mando un grande Vi mando un grande